Ciao, in questo video voglio mostrarti un'applicazione completamente gratuita che ti consente di ascoltare la tua musica preferita o guardare il tuo video musicale direttamente su YouTube anche a schermo disattivato, spentosi, perché saprai benissimo che una volta disattivato lo schermo del tuo dispositivo, se stai guardando un video sull'applicazione ufficiale di YouTube, questo video viene disattivato e questo può essere naturalmente molto scomodo. Ovviamente questa funzione può essere bypassata sottoscrivendo un abbonamento YouTube Premium ma esistono anche delle strade alternative che ti permettono di ottenere lo stesso risultato e in questo video sto per farti vedere un'applicazione che ti permette di riuscirci davvero in maniera molto molto semplice, sarà compatibile sia che tu abbia uno smartphone Android ma anche come nel mio caso un iPhone e quindi un dispositivo iOS. Prima però di andare a vedere che cosa devi fare, qual è l'applicazione da scaricare e come utilizzarla, ti ricordo questo è il momento se non lo hai ancora fatto di iscriverti al mio canale qui su YouTube, lasciare un like se al termine di questo video l'avrai trovato utile ed interessante e soprattutto attivare la campanella, sì perché la campanella ti permetterà di rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi contenuti video. Allora andiamo a vedere come riuscire ad ascoltare un video anche a schermo spento sul tuo smartphone. Allora vediamo insieme la procedura, te la mostrerò in tempo reale quindi senza stacchi in modo tale che tu possa avere davanti al tuo schermo esattamente l'esperienza che avrai seguendo la mia procedura passo passo. Allora prima cosa da fare naturalmente sarà andarci a scaricare un'applicazione, l'applicazione in questione, stiamo aprendo in questo caso l'app store, si chiama Bro Browser, quindi io vado a scrivere Bro Browser, aspetto il caricamento nello store. Ecco, il primo risultato utile è quello che ti servirà, quindi questa applicazione con l'icona a forma di fantasmino con gli occhiali. Una volta che l'avrai scaricata e proverai ad aprirla, allora chiudiamola perché io l'avevo già aperta, ecco la andiamo ad aprire, attendiamo un po', come vedrai questa sarà la prima schermata che ti comparirà. Sì perché l'applicazione è gratuita ma esiste naturalmente un piano anche a pagamento premium che ti consente di avere altre numerose funzioni a disposizione, ovvero il blocco dei pop-up, dei pop-up legati alla pubblicità, anche se ti posso garantire che già con la versione free, gratuita, molte delle pubblicità presenti sui video di YouTube vengono disattivate e questa è un'altra ottima notizia. Come fare per bypassare il problema della versione gratuita? Si deve per forza sottoscrivere un abbonamento? Manco per niente. Se osservi qua subito sopra i due quadratini dei prezzi dei vari piani di abbonamento c'è una scritta che dice limited version, tu devi selezionare proprio questa. Cosa accadrà? Una volta che l'avrai selezionata ti dovrai sorbire un breve spot pubblicitario che è davvero molto molto veloce, infatti già io cliccando qua in alto su continua nell'app avrò a disposizione l'interfaccia del mio nuovo browser. Allora abbiamo detto vogliamo ascoltare una canzone su YouTube e poi vedere se riesco ad ascoltarla anche con lo schermo disattivato, per cui io vado a selezionare l'icona di YouTube in questo modo, lo giro in modo che non ci siano problemi legati al copyright, ecco immaginate che io voglia ascoltare questa musica anche a schermo spento, che cosa dovrò fare? Dovrò andare a selezionare il file, lo metto in pausa per evitare problemi di copyright, vedete che qua in basso sull'estrema destra c'è un'icona di un piccolo rettangolo nel rettangolo, questa è la funzione PIP ed è l'acronimo di Picture in Picture, ovvero la possibilità di ridurre la finestra del player musicale in basso spostandola dove voglio e continuando a operare sul mio smartphone senza problemi, cioè cosa significa? La vado a selezionare, rimetto di nuovo pausa, se no nuovamente problemi di copyright, se adesso io vado a fare uno swipe verso l'alto, io avrò la schermata del mio iPhone ma il player qua in bella vista, che peraltro, cosa molto interessante, io con un semplice pinch to zoom posso andare a modificare nella grandezza, così da ridurne il fastidio e l'ingombro, e andarmelo a spostare dove voglio nello schermo, ma ora viene il bello, abbiamo detto che vogliamo vedere se si riuscirà ad ascoltare questa musica anche a schermo disattivato, per cui io vado a disattivare il mio schermo, guardate se io seleziono leggermente lo schermo, ecco qua il player che è pronto per partire, e vedete che funziona perfettamente, quindi immaginatevi la comodità se volete utilizzare il vostro smartphone e ascoltarvi una canzone su YouTube mentre siete in palestra e non volete tenere lo schermo aperto, con questo browser, con questa app gratuita, potete riuscirci. Avete visto la procedura è molto semplice, se per caso ci fossero dei piccoli inconvenienti, comunque potete scrivermi nei commenti, vi lascio anche in descrizione i link per scaricare la vostra versione per Android o iOS. Direi che per questa guida è tutto, ma solo per il momento Andrea Mini alias Dot Zivago vi saluta, ti saluta e ti rimanda al prossimo tutorial sulla tecnologia. Ciao, a presto!